Buongiorno, sono Laura da Michael Page Milano, la chiamo in merito di un'opportunità lavorativa, la disturbo. Michael Page nasce nel 76 a Londra ed è una multinazionale leader nella ricerca e selezione di personale qualificato. Page Personnel è la società del gruppo Page che si occupa della ricerca e selezione di impiegati e di giovani professionisti qualificati, sia attraverso contratti a tempo determinato o anche contratti a tempo indeterminato. Il Page Group ha la possibilità di disegnare il tuo percorso professionale, sei il vero e unico attore del tuo successo. Oggi Page Group offre l'opportunità di entrare in un'azienda che ha tra i suoi valori fondamentali la carriera delle persone e lo sviluppo del talento professionale. In Page Group troverai un ambiente meritocratico. Se sei determinato e motivato a crescere, anche partendo da uno stage potrai ricoprire ruoli importanti. A me è successo. Oggi gestisco un team di otto persone. La forza di Page Group è che siamo giovani, veloci e determinati. Sono tre anni che lavoro in Page Group e, credetemi, non ho mai sofferto l'unico. La forza di Page Group è la leadership di mercato grazie all'elevata specializzazione dei nostri consigli. La passione è sicuramente l'ingrediente fondamentale in Page Group. È un'azienda che vi chiede molto, ma passione e dedizione rendono tutto possibile. Page Group ti dà la possibilità di avere una visione molto ampia del mercato. Aziende, settori, ruoli e organizzazioni sempre diversi. Ti senti il pilota più forte sulla macchina più veloce. In Page Group avrai la possibilità di seguire un progetto di consulenza HR a 360 gradi. Page Group premia chi osa, chi rischia, chi ha il coraggio di affrontare nuove sfide, celebra i propri successi e non si abbatte nei momenti difficili. In pratica non perdi mai, o vinci o impari. La parola che ben descrive l'ambiente e lo spirito in Page Group è condivisione. La condivisione ci consente di celebrare insieme i successi, di superare le difficoltà e di imparare dagli errori. Posso affermare, direi, senza ombra di dubbio, che quello che rende unico Page Group sono le persone che vi lavorano bene. Sì, dottore, buongiorno. Sono il dottor Granieri e la chiamo dalla società Michael Page, divisione Sales e Marketing. Francesca Contarni, manager indiretto, Page Personal Italia. Marco Fusaro, executive manager, Page Personal Italia. La Fiuscia Cardinali, direttore, Page Executive Milano. Andrea Policardi, manager, Michael Page Personal Italia. Passione. Make it happen. Perché in Page Group succede davvero. Unisciti a noi. Fabiana Rizzi, manager Page Assessment, Milano. Unisciti a noi. Unisciti a noi.